una giornata importante una giornata di conferme molti dei segnali che avevamo ricevuto nei giorni scorsi stanno trovando seguito abbiamo fatto un po ieri rinvio al video di ieri per vedere un po del dei temi che avevamo toccato la settimana scorsa un altro era quello della volatilità dicevo ieri poi ieri non abbiamo visto nel grafico il giorno 21 avevamo detto vix volatilità riparte verso l'alto un paio di giorni prima avevamo parlato anche del bitcoin che aveva preso un andamento come quello dei tecnologici questo era il 19 aprile e quindi vediamo oggi appunto troviamo conferma di questi segnali che erano già partiti verso metà mese e la volatilità oggi torniamo alla situazione in tempo reale il vix più 15 per cento e il 21 eravamo qui abbiamo visto l'ennesima tenuta di questa trend line ascendente anche se tracciata a mano adesso la possiamo anche togliere e comunque avevamo notato il fatto che la volatilità comunque non riusciva più a rientrare sotto 20 e quindi al primo segnale di tenuta e poi è ripartito il trend verso l'alto anche se mancano quasi due ore alla chiusura comunque oggi un'altra giornata di vix decisamente in rialzo e quindi per contro abbiamo tecnologici meno 2 6 del nasdaq abbiamo già parlato ieri e quindi abbiamo visto che già era arrivato al target di in area 328 questo è l'etf delle 3q e quindi adesso è molto probabile il test proprio dei minimi oggi un'altra estensione verso il basso facciamo il confronto un po' con gli altri indici per vedere la differenza il dow jones sta interessando in questo momento area 33 e 300 quindi è un po' più in alto rispetto al al nasdaq perché ha avuto più forza relativa anche se poi comunque alla fine ha confermato il pattern ribassista con questo doppio top che poi avevamo visto nel grafico in realtà è un quadruplo top qui in area 35 5 con i due massimi di febbraio comunque la figura di breve diciamo doppio top è la proiezione verso il basso che è dato dalla distanza dai dai due massimi al minimo intermedio quindi si prende questa altezza e che quindi qua 34 e 100 35 4 sono 1300 punti e quindi andiamo a 33 32 8 ecco ci siamo quasi dovremmo essere 33 mila ecco quindi comunque anche per il dow jones andiamo a vedere l'area dei minimi di febbraio e marzo ce lo conferma anche la proiezione di questo doppio top vediamo il russell in questo momento segna meno 2 15 il russell ai minimi di febbraio e marzo c'è già arrivato il russell dalla fine dell'anno scorso che si muove in anticipo e quindi anche qui test molto importante di questo supportone in area 187 testato diverse volte il comunque l'andamento generale ribassista ho tolto temporaneamente la volatilità di stop line perché soprattutto sugli indici americani aveva dato dei falsi segnali quindi in attesa adesso che si che si rifasi poi la rimetteremo domani ma anche per fare un attimo pulizia nel nel quadro generale torno un attimo sul nasdaq ecco dimenticavo di mostrare come appunto stava prendendo corpo questo grande testa e spalle ribassista con la spalla destra complessa che però si è formata molto bene al di sotto della media 200 che sta iniziando a flettere verso il basso quindi questa è una figura importante quindi chi pensa che qui siamo ai minimi del ribasso in realtà farebbe bene a farsi venire dei dubbi perché non è per niente detto cioè se per caso questa figura dovesse completarsi verso il basso e come fa a completarsi con un break della volat del neckline che diciamo passa sì io direi proprio per i minimi a 320 questo di questo etf andiamo a vedere un attimo l'indice per trovare l'equivalente per gli amici che seguono l'indice parliamo ecco di area 13 mila sotto 13 mila l'innesco di questa figura porterebbe a obiettivi molto più in basso certo il nasdaq spazio ne ha perché ricordo appena che giusto per parlare di di indice i massimi del febbraio 2020 sono a 9.700 quindi capite bene come qui una correzione verso il basso con una proiezione che poi magari calcoleremo più precisamente quindi qua 13 3 solo a proiettare la distanza del top 16 3 13 3 mila punti ecco grosso modo arrivare area 10 11 mila non ci sarebbe assolutamente niente di strano e saremmo ancora sopra i livelli pre pandemia questo perché l'abbiamo detto tante volte chi segue i video chi ha si chi segue i video dall'anno scorso sa che questo è un tema che abbiamo trattato un sacco di volte il nasdaq il settore tecnologico è quello più che ha mai diciamo più sopravvalutato che ha maggiormente avuto beneficio nelle valutazioni dal dal fatto che i tassi di interesse sono rimasti bassi per così tanto tempo adesso che i rendimenti hanno ricominciato a salire quindi questo è il settore in questo momento sicuramente più penalizzato veniamo all'europa il dax meno 1 e 2 qui anche qui non abbiamo grossi dubbi rottura verso il basso molto decisa con il sell off di febbraio media 200 è già orientata verso il basso e qui diciamo il rally che è partito dai primi di marzo si è fermato in un top complesso ricordate che mentre i minimi molto spesso sono a cuspide o a w i massimi invece è molto più frequente che siano delle figure complesse i massimi relativi ora qui lo vediamo su scala daily ma se andiamo sul due ore ecco sul due ore si vede chiaramente lo sviluppo di questo testa e spalle ribassista che oggi giornata molto importante è stato rotto verso il basso la proiezione qui su scala due ore ci da all'incirca area 13 mila come abbiamo fatto la proiezione con la proiezione della spalla destra questo è uno dei metodi 2.618 dell'altezza della spalla destra e ci porta sì in area 13 mila dove c'è tra l'altro il gap questo gap aperto nella giornata del 9 marzo questo questo altro gap è stato come vedete ha fatto da supporto per tanto tempo e ora il prossimo supporto grafico importante in area 13 mila ricordo sempre che questo non vuol dire che il dax andrà sicuramente a 13 mila non mi stanco mai di ripeterlo queste sono questi sono scenari tecnici probabilistici può accadere qualsiasi cosa per cui questo si può anche ribaltare e ripartire verso l'alto chiaramente lo scenario tecnico in questo momento ci dice con buona probabilità che la proiezione di questa figura se confermata è perché ora poi vedremo anche domani dopo domani molto spesso ci sono quante volte abbiamo visto i falsi segnali no quindi come la gestione poi eh operativa è tutt'altro che semplice no quindi poi a posteriori le figure sono tutte facili si vedono tutte bene poi la gestione man mano che esse si sviluppano è tutto un altro capitolo eh quindi verso l'alto ovviamente eh il quadro tecnico cambierebbe col superamento di 14.6 cioè della spalla destra di questa figura di inversione che se i prezzi dovessero per qualche motivo tornare sopra 14.6 verrebbe negata quindi a quel punto si aprirebbe un altro scenario che poi in caso andremmo a vedere però per il momento così è allora bitcoin eh ci chiedevamo appunto se era ormai eh in maniera stabile agganciato all'andamento dei tecnologici perché avevamo visto all'epoca che c'era una forte correlazione l'ultima volta l'abbiamo visto la settimana scorsa con eh l'indice dei tecnologici facciamo anche qui una nuova scala di prezzo per vedere la comparazione vedete oggi il nasdaq punta verso il basso e anche il bitcoin meno 5% quindi continua questa correlazione sono molto in fase e quindi il bitcoin ormai eh diciamo possiamo considerarlo omologato a quello che è il settore eh tecnico tecnologico comunque ha dei settori più speculativi eh che ci sono eh sui mercati finanziari ecco quindi eh un andamento importante anche per il bitcoin i minimi eh dell'anno sono in area 34.000 siamo a 38.000 bitcoin molto volatile tra l'altro quindi c'è spazio e e questo appunto era per fare un punto di situazione dare un po' un seguito visto che ci sono amici che seguono anche questo eh tipo di strumenti eh un'occhiata al petrolio il petrolio rimane sempre all'interno del triangolo teniamolo d'occhio perché l'uscita da questo triangolo eh ci darà un movimento importante l'oro e l'argento eh continuano nella fase di debolezza l'oro sta tentando disperatamente di resistere sopra millenove perché sotto eh anche qui si innescherebbe una figura eh tecnicamente di debolezza perché questo eh ampio trading range di sopra del di queste resistenze in area a milleotto e settanta dove mi trovo adesso eh se venisse bucato verso il basso aprirebbe di nuovo la strada obiettivi molto molto più bassi la stessa cosa per l'argento l'argento ha già violato verso il basso eh questo eh questa figura di consolidamento quindi eh qui molto probabilmente si apre la strada al test di 22 che è un supporto che tante volte nel corso del 2021 ha fermato l'avanzata dei prezzi la discesa dei prezzi eh diciamo che sia i preziosi sia che le commodities eh stanno registrando tutti quanti questi queste figure di failure questi segnali di failure nel video di video nel video di fine settimana avevamo fatto vedere il rame con questi quattro top in area 4 e 8 e anche il rame sta continuando verso il basso vi ricorderete che avevo detto non facciamoci ingannare da questa da questo canale a rialzo perché la pendenza è troppo bassa la direzionalità non è mai riuscita non è mai decollata più di tanto anzi abbiamo cominciato a flettere eh già a metà aprile quando ancora i prezzi eh erano eh in alto molto vicini a quattro e otto il la dx aveva cominciato a calare e quindi adesso è avvenuto l'incrocio del dmi negativo quindi i bear sono passati in controllo per cui anche per quello che riguarda il rame eh mi aspetto i test di supporti più in basso in area quattro e due comunque vedremo nei prossimi giorni va bene siamo a tredici minuti di video oggi non abbiamo richieste per cui se volete lasciate nei commenti eventuali segnalazioni di situazioni interessanti così poi magari li guardiamo nei prossimi video durante la settimana intanto ringrazio tutti dell'attenzione vi ringrazio dei like che lasciate sui entrambi i canali sia su youtube che su un trading view vi do appuntamento a domani intanto buona serata a tutti